Un posto che fa in modo che alla fine questo ponte crolli e poi lo ricostruisce velocissimamente, in questo bisogna fare i complimenti al commissario Pucci che ha lavorato in maniera straordinaria, a Renzo Piano e a tutti quelli che hanno lavorato lì e che hanno lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche con la pandemia, anche con gli alluvioni. A me non piace molto questa parola ma lo sono stati, però lo ha costruito derogando qualsiasi regola che esiste in questo paese e quindi quel ponte lì è la dimostrazione che il paese non funziona paradossalmente, perché se vogliamo che le cose funzionino bisogna non rispettare le regole che il paese ha messo perché le cose funzionino. E quindi è una bella fotografia del paese questo ponte, perché è un ponte che è stato tirato su bene e velocemente non rispettando le regole.